Allenamento pomeridiano per la Juniors nazionale di Paolo Cesaroni I ragazzi bianco-viola, classe 1995 si allenano in vista del prossimo impegno che sarà a Sora e sono reduci dalla sconfitta di Frascati contro la Lupa ecco i ragazzi che si allenano sotto lo sguardo attento del mister Paolo Cesaroni e del preparatore Pino Romani prima fila guidata da Alessio Lupi che sta per partire in questa fase dell'allenamento pomeridiano di giovedì 17 gennaio 2013 finisci